Sì, un sogno che si realizza. Io, Salentino, ho voluto fare proprio questo film qui a Marsala perché amavo questa terra, quindi automaticamente quello che avevo scritto poteva soltanto essere messo in pratica, essere girato solo qui a Marsala, in questa terra. Avete fatto tutto da soli, è stato detto durante la conferenza stampa, nessun aiuto, tutto in amicizia, in autonomia, siete riusciti comunque? Ed è stato proprio un vantaggio anche per noi perché dall'A alla Z, con Nino, con Guido, Cerniglia, siamo riusciti a portare questo progetto a termine perché non abbiamo avuto altre produzioni a fianco, finanziamenti e quindi tutto quello che ci veniva in mente, proprio come si faceva un tempo negli anni 50, negli anni 60, abbiamo creato un cinema, spesso mi hanno detto pure a Roma, neorealistico, no? Quindi proprio come si faceva un tempo, senza soldi, però con tanto amore e spiegando e raccontando qualcosa che avevamo dentro, che è un po' di nostalgico pure all'interno del film. È un sogno che si realizza perché dopo due anni di estenuante lavoro siamo riusciti a portare finalmente a Marsala, il luogo dove abbiamo girato il film e dove le scene sono realizzate, riusciamo a portarlo qui a Marsala. Ecco, già siamo riduci da uno, io lo chiamo un successo, voglio dire, ottenuto lì a Roma in occasione dell'anteprima e speriamo di continuare anche qui nel luogo dedicato, perché questo film è dedicato proprio alla nostra città, alla mia città di Marsala, nella quale sono veramente innamorato. C'è un luogo simbolo in questo film che è il mulino di Mamma Caura nella zona della Laguna dello Stagnone che tutti noi amiamo ma che viene saltato davvero in questo... Perché in effetti io tutte le volte che vengo a Marsala, Palermo a Marsala dall'aeroporto di Trapani, io anziché fare la strada normale vengo giù verso la riserva dello Stagnone perché quando guardo quel mulino, quella riserva così, quel luogo, io mi emoziono, mi emoziono veramente, infatti quel simbolo l'ho voluto proprio nella locandina del film perché è il simbolo della nostra Marsala, insomma, ecco la ritengo quella.